Il Presidente dell'M5S Quello interno dove sta cercando di trovare una quadra in vista delle nomine nella segreteria che continuano ad essere rinviate. E quello dell'iniziativa politica, in vista dell'elezione del Capo dello Stato. Il leader dell'M5S, dopo la giravolta su Mario Draghi, prima indicato per il Colle e poi come indispensabile a Palazzo Chigi, ha deciso di rilanciare l'iniziativa del Movimento 5 Stelle sulla partita del Quirinale cercando la sponda del centro-destra per provare a cercare insieme un nome che sia di garanzia per tutti. Ecco perché ha deciso di chiamare il leader della Lega Matteo Salvini, con cui i rapporti erano rimasti molto freddi dopo la fine del suo primo governo. La telefonata non è stata confermata, ma secondo la stampa, il Capo M5S avrebbe chiesto al senatore leghista di collaborare cioè di condividere se non il nome almeno uno schema di accordo per il Quirinale. Grazie a tutti.